Dopo l'estate passata in trincea per i presidi è un autunno caldo con l'inizio delle lezioni in presenza e poi adesso la decisione di intraprendere la DAD, la didattica a distanza per limitare le occasioni di contagio. Nonostante gli sforzi dunque fatti dalle scuole anche in Abruzzo per cercare di adeguarsi alle misure di sicurezza anti-covid ed evitare che i ragazzi potessero contagiarsi, alla fine c'è amarezza e frustrazione per quanto accaduto e per il fatto che le lezioni non potranno proseguire in presenza almeno per adesso. Al liceo scientifico di Pescara racconta la preside San Vitale era già tutto pronto per questa evenienza e dunque i ragazzi stanno seguendo le lezioni attraverso la didattica a distanza senza alcun problema. Noi chiaramente avevamo già testato ampiamente consolidato la nostra piattaforma, già avevamo una turnazione dalla seconda alla quinta perché le prime erano tutte in presenza ma le altre per problemi di distanziamento e funziona tutto veramente a perfezione perché noi abbiamo lavorato indefessamente senza sosta. E scuola la didattica a distanza? Penso che la risposta ormai ce la siamo dati ampiamente. La scuola è relazione, è rapporto, è incontro, è relazione dove accade realmente il miracolo dell'educazione e dell'istruzione. La scuola ha funzionato, le scuole superiori chiuse non hanno avuto focolai se non qualcuno, qualche caso di isolamento della classe, cosiddetta quarantena, ma derivanti da situazioni esterne. La tecnologia permette tanto ma non sostituisce l'uomo, la relazione umana, per cui speriamo solo che sia un provvedimento che esplichi effetti, cioè sia giusto come provvedimento. Io ho i miei dubbi ma spero proprio profondamente di essere smentita e speriamo veramente di contrastare questa curva che spaventosamente cresce, la curva epidemiologica.